Il clip si rivolge a giovani cantanti di tutte le vocalità che abbiano voglia di mettersi in gioco e di farsi ascoltare da una giuria composta da grandi direttori di teatri europei che sono in grado di firmare dei contratti. L'idea di questo concorso è di avere soltanto in giuria gente che sia in grado di firmare dei contratti. Avere un parere, chiacchierare su di un cantante è una cosa, firmare un contratto è un'altra cosa. Avere un'altra cosa è un'altra cosa, in cui tutto è in harmonia. Ma mi sento speciale in questo posto è che c'è questa connessione tra i giuria membri, le persone che vengono. Questa connessione è veramente come in un teatro reale. Quando si tratta un'opera, bisogna la connessione tra la stagione e l'audience. In un modo, crea la stagione stagione qui. Il livello dei concorrenti che sono arrivati alla finale era altissimo, come non mi era mai successo. Le componenti che ci siamo trovati questa volta erano equilibrate tutte a livello di percentuale molto alta. E quindi questo è un grande risultato. Va da casa molto felice. Io ho fatto tanti concorsi nella mia vita, forse 70 ad alto livello, non mi è mai capitato di trovare una finale di questo livello. È stato molto più come un concerto che una finale di una competizione. Molto di questi cantanti saranno molto presto. Ho fatto una lista di persone che voglio fare in futuro. Un cantante giovane può venire da noi per fare un concorso. e uscire dal concorso con un futuro avviato nel mondo della grande lirica. Eccezza Avella Grazie a tutti.